La polizia, a seguito dell'arrivo di ieri mattina della nave Asso 29, ha sottoposto a fermo uno scafista egiziano di 31 anni. La nave faceva sbarcare presso il porto di Pozzallo 151 migranti tratti in salvo poiché viaggiavano a bordo di un gommone che giungeva presso una delle piattaforme petrolifere antistanti la Libia. Domenica mattina, immediatamente dopo l'arrivo della nave, i migranti venivano ospitati presso l'hot spot di Pozzallo e gli investigatori davano subito inizio alle indagini. Grazie al lavoro di un team di poliziotti esperti è stato possibile raccogliere gravi indizi di colpevolezza in ordine ad un giovane egiziano indicato come colui che ha condotto il gommone partito dalle coste libiche fino alle piattaforme petrolifere. Sono state raccolte le dichiarazioni dei passeggeri che non hanno avuto alcun dubbio rispetto alla condotta dello scafista che fino a prima della partenza dialogava con i libici. In questo caso lo scafista ha diretto il gommone verso le piattaforme petrolifere antistanti la Libia ed è rimasto in attesa dei soccorsi che gli stessi operai hanno prestato, considerato che il gommone era in scarse condizioni di galleggiabilità. I testimoni hanno raccontato di aver pagato circa 1.100 euro ciascuno e descritto con molta precisione il ruolo dello scafista anche prima della partenza dalle coste. Al termine delle indagini la procura della Repubblica di Ragusa ha disposto che l'indagato venisse condotto presso il carcere Ibleo. Secondo i testimoni sono loro che hanno condotto l'imbarcazione partita dalle coste libiche. I responsabili del delitto concorrevano con altri soggetti presenti in Libia al fine di trarre ingiusto e ingente profitto compiendo atti diretti a procurare l'ingresso clandestino nel territorio dello Stato di cittadini extracomunitari. Il delitto è aggravato dal fatto di aver procurato l'ingresso e la permanenza illegale in Italia di più di 5 persone perché è stato commesso da più di 3 persone in concorso tra loro per aver procurato l'ingresso e la permanenza illegale delle persone esponendole a pericolo per la loro vita e incolumità e inoltre per averle sottoposte a trattamento inumano e degradante. Al termine dell'accertamento dell'identità da parte della polizia scientifica di tutti i migranti sbarcati gli uomini della squadra mobile di Ragusa hanno individuato un soggetto marocchino di 30 anni che in passato era già stato in Italia. Dalla comparazione delle impronte digitali il soggetto aveva già commesso diversi reati in Italia e per questo era stato condannato dalla legge italiana. Considerato che doveva ancora espiare 5 anni e 6 mesi di pena gli uomini della squadra mobile hanno chiesto il provvedimento di cattura ai carabinieri di Modena che hanno immediatamente prestato la loro collaborazione e subito dopo i poliziotti di Ragusa hanno condotto il condannato in carcere dove dovrà espiare la pena inflitta. Grazie. 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 Grazie.